Buongiorno Però questo viaggio è sempre bello farlo In comunione con il cielo Ma anche in comunione con i fratelli sulla terra E non importa di dove siamo, da dove veniamo L'importante è che ci lega la fede, il cuore, l'amicizia A volte, ecco, chi ci sta vicino Neanche ci comprende, neanche si chiede come stiamo Magari però questa domanda viene da lontano Da uno che magari non incontriamo Ma che ci vuole bene e ci dimostra il suo affetto e la sua amicizia Vogliamo pregare insieme anche quest'oggi? Facciamolo Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Come in cielo o così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male. Amen Aveo Maria, piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Angelo di Dio Che sei il mio custode Illumina, custodisci Reggi e governa me Che ti fui affidato dalla pietà celeste Amen L'eterno riposo Dona loro, Signore E splenda ad essi La luce perpetua Riposino in pace Amen Accogliete la santa benedizione Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio E Spirito Santo Durante questa giornata Ripetete spesso Gesù, Giuseppe e Maria Vi dono il cuore E l'anima mia E noi Ci ritroviamo durante il giorno Con i nostri momenti di preghiera Alle 15 la coroncina Alle 17.20 il Santo Rosario Che potete seguire dal sito www.donfrancescocristofaro.it Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti